Partirà domenica da Fermignano la Market Cup 2020, il circuito cicloturistico WISP dedicato agli appassionati di mountain bike che potranno pedalare nei borghi, nei fiumi, nei colline del territorio marchigiano. Ce ne parlano il presidente WISP provinciale Simone Ricciotti e il consigliere regionale Andrea Biancani. Si tratta di un circuito cicloturistico, quindi attenzione non è una gara, è proprio cicloturismo, lo dice la parola stessa, c'è la parola turismo. Quindi il turista cosa fa? Vai nei posti, li guarda, respira questi posti con calma e questo fa il turista. E questo facciamo noi attraverso le biciclette, quindi non è una gara che arriva prima, è un modo attraverso uno sport pulito ed ecologico come quello della mountain bike di valutare i nostri borghi, il nostro entroterra e tutte quelle zone che normalmente sfuggono all'occhio perché siamo tutti di fretta, spesso e volentieri, e insomma con queste macchine si fa un po' fatica a notare i dettagli. Volevo anche dire che quest'anno è aperto ai non tesserati, quindi a differenza dello scorso anno nel quale per partecipare bisognava essere muniti di una tessera federale o di un ente di promozione sportiva, quest'anno è aperto a tutti perché le società che organizzano le varie tappe hanno fatto un'assicurazione supplementare per consentire appunto la diffusione di questo sport anche a chi non ha la tessera perché il luogo comune è che per avere la tessera bisogna essere degli sportivi, degli esperti e invece no. Questo è un circuito aperto letteralmente a tutti, alle famiglie, a tutte quelle persone che amano la bicicletta e hanno piacere di godere del nostro entroterra. Come regione Marche abbiamo già votato in commissione la legge sui nuovi percorsi mountain bike, dovrebbe andare in aula entro un paio di settimane, è una legge che ho presentato io come primo firmatario che fa sì che all'interno della rete esclusionistica marchigiana, che oggi comprende le piste ciclabili, comprende i percorsi a piedi o i percorsi a cavallo, ci sarà la possibilità anche di individuare dei percorsi che sono esclusivi per coloro che utilizzano le mountain bike. Ovviamente le persone che utilizzano la mountain bike potranno frequentare i percorsi che già fanno, però c'è l'opportunità da parte dei comuni di andare a tracciare, di andare a individuare tutti quegli itinerari che sono adatti per coloro che amano la bicicletta e quindi di stare all'aria aperta. La differenza è che entrando all'interno della rete esclusionistica si potrà anche promuovere o nel sito del comune o nel sito della regione o comunque sui siti che si occupano di promozione turistica, questi percorsi possono essere promossi e quindi possono essere fatti conoscere anche a livello nazionale ma anche a livello internazionale.